benvenuti a casa Sanremo benvenuti nella casa che ospita il festival e le mille attività collaterali del festival e sto per presentarvi un momento davvero bello davvero interessante e toccante perché riguarda tra l'altro la storia arma dei carabinieri perché ho qui con me la banda dell'arma dei carabinieri do il buongiorno allora ovviamente a tutti i militari e al luogo tenente Francesco Loppi buongiorno e benvenuti buongiorno ben arrivati luogo tenente maestro perché voi siete una banda di 102 elementi maestri ovviamente musicisti d'orchestra diplomati nei migliori conservatori italiani e niente facciamo parte di questa di questa grandissima banda siamo molto orgogliosi e niente siamo qui in una piccola formazione oggi andiamo in giro in 102 elementi quindi siamo tantissimi non c'è il maestro ricordiamolo il maestro Martinelli che salutiamo sarà con noi da questa sera in poi e qui siamo in una piccola formazione per gli spazi richiesti e cerchiamo insomma di alietare insomma un po' le le giornate sarremesi anche per rievocare quella che è la lunghissima tradizione dell'arma dei carabinieri della banda in particolare insomma esatto voi siete da molti anni da tantissimi anni noi siamo venuti eh già altre volte nel duemiladieci e nel duemilaventi insomma quindi siamo abbastanza affezionati a questo festival e ci piace stare qui e insomma ne siamo felici tra l'altro il vostro repertorio spazia eh dai classici diciamo dalle canzoni militari fino alle canzoni pop ovviamente omaggiando il festival di Sanremo assolutamente sì 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 abbiamo preparato insomma nel nostro repertorio spazia attraverso tantissimi musici ovviamente negli ultimi anni ci siamo aperti un po' a tutti i generi quindi cercheremo di rendere omaggio degnamente a tutto quello che riguarda il festival alla nostra tradizione ovviamente bandistica delle marce e siamo curiosi di ascoltarvi siamo pronti il pubblico a casa è sicuramente anche qui presente nella lounge del di casa Sanremo di ascoltarvi quindi tra poco daremo eh fiato alle trombe insomma nel gergo musicale ma in realtà non saranno soltanto i fiati a suonare permettimi eh mi permetta di salutare ehm il generale di divisione Benedetto che è qui con noi che ci omaggia della sua presenza generale ben arrivato buongiorno e allora a questo punto luogotenente a lei il là il via per dare inizio bene cominceremo subito con la marcia d'ordinanza dei Carabinieri è una marcia bellissima la fedelissima eh appunto e il nostro inno che conoscono un po' tutti quindi marcia d'ordinanza della marcia di avervi di avervi qui e allora a casa Sanremo la banda l'orchestra dell'arma dei Carabinieri grazie grazie a tutti Grazie a tutti. 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 a tutti.